Musica Vittoria storica quella di mercoledì pomeriggio a Reggio Calabria per la Vigor Lamezia, i biancoverdi per nulla sazi dopo il capo rifilato alla Messina, alla Dippolito, hanno inflitto anche agli Amaranto una pesante sconfitta ed ora sono sempre più vicini alla meritata salvezza, ascoltiamo il tecnico biancoverde Alessandro Erra Noi abbiamo fatto una buona partita, una discreta partita, non eccellente come nelle altre prestazioni fuori casa nell'ultimo periodo però abbiamo avuto la fortuna, la bravura di sbloccarla subito quindi per noi dal punto di vista psicologico si è messa bene loro erano in un momento di difficoltà quindi hanno accusato il colpo e nel secondo tempo è scaturito anche il secondo gol nel complesso una partita discreta da parte nostra contro una regina che comunque ha cercato di fare il massimo e ci dispiace vedere una realtà così importante in un momento di difficoltà Guardi, noi abbiamo fatto gol subito e poi la regina ci ha messo in difficoltà Noi siamo stati rispetto alle altre uscite un po' molli, non abbiamo subito granché però la regina ce l'ha messa tutta e poi è ovvio che a tratti si vede che sono quelle annate negative dove fa tutto male anche all'inizio del secondo tempo 10-15 minuti ci hanno messo in difficoltà poi dopo senza concludere granché, questo va sottolineato poi ci siamo messi a 4, siamo ripartiti meglio, cosa che non avevamo fatto nel primo tempo e poi dopo è ovvio che dal punto di vista psicologico dopo il secondo gol la partita è praticamente finita Sicuramente noi abbiamo fatto sia l'annata che il ritorno due grandi partite però quello che conta è la continuità stiamo dando continuità ai risultati, stiamo facendo molto bene e siamo contenti di questo perché noi a lui siamo partiti con un obiettivo che era la salvezza stiamo cercando di raggiungere la prima possibile e anche oggi abbiamo fatto vedere che siamo una squadra che non molla mai che è cattiva su tutte le palle, che corre soprattutto che vuole raggiungere, come ripeto ancora, la salvezza il prima possibile